Parliamo ora del trasporto aereo perché ci sono importanti novità che la Commissione Europea ha presentato in una nuova strategia. Ne parliamo in collegamento con Bruxelles, con il portavoce della Commissione Europea per i Trasporti, Jakob Adamovic. Ben arrivato. Jakob, dunque, quali sono i principali punti di questa nuova strategia? Buongiorno. Infatti abbiamo presentato questa nuova strategia per l'aviazione in Europa, e per Europa, questo lunedì, un punto importante è la posizione delle compagnie aeree europee e nel mondo, perché conosciamo che il mondo sta cambiando, in Asia, nei paesi del Golfo c'è concorrenza importante per le compagnie aeree europee e che vogliamo fare? Vogliamo costruire strutture con accordi internazionali, questo senso, una compagnia aerea che è competitiva, è una buona cosa per i passaggeri, è una buona cosa anche per tutta l'economia e poi per il sistema sociale, perché solo possiamo vivere con il nostro modello sociale europeo, se c'è un'attività economica che lo financia anche. Jakob, tu hai parlato anche di sicurezza e negli ultimi anni c'è un settore, quello dei droni, che è aumentato tantissimo, però molto spesso le compagnie aeree stesse lamentano delle difficoltà, perché questi droni poi volano nei nostri cieli e c'è bisogno di una regolamentazione anche su questo punto, è così anche su questo? E anche su questo, in questa nuova strategia per l'aviazione, i droni sono un elemento importante perché le droni è necessario fare una regola europea, dove è possibile utilizzare gli droni per i particolari, dove non è possibile, per esempio nella certità dei aeroporti è molto pericoloso e anche c'è una gran potenzialità economica con i droni, hai settori economici che si possono realizzare, ma è importante rispettare i diretti fondamentali, la privatità anche e soprattutto anche l'organizzazione del traffico aereo, in questo senso c'è i droni, c'è gli aeri e le droni necessitano separazione anche nel cielo, questo è anche un elemento di questa strategia per l'aviazione che posso dire anche, c'è un sit web della commissione, un DigiMove della Direzione Generale dei Trasporti, dove c'è tutti questi elementi esplicati in dettaglio. E allora noi ringraziamo Jakob Adamovic per essere stato con noi, grazie.